Musica Militanti di Casa Pound e residenti armati di sacchi per l'immondizia si sono messi a lavoro e hanno riqualificato nei giorni scorsi uno dei tratti più affascinanti e simbolici del comune di Arezzo, ossia il tratto che costeggia l'alvio dell'Arno tra Ponte Buriana e Buon Riposo, il suggestivo paesaggio che ispirò Leonardo per dipingere la Gioconda. L'abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Casa Pound, ragazzi che sono venuti giù sabato scorso, un gruppo di loro ed alcuni di noi abbiamo dato una ripulita a quello che era il materiale che abbiamo trovato lì, cosa veramente incredibile che andando a scartabellare sotto a quei grandi nylon di plastica è venuto fuori una cosa che io non mi sarei mai aspettato pur abitando lì da 36 anni, quindi circa una ventina di siringhe, quindi segno di dimostrazione che quello è un punto purtroppo in cui si sentono sicuri di poter fare certe cose. La zona è stata ripulita, si spera lo rimanga per il più lungo tempo possibile, ma il vostro appello è sempre all'amministrazione che si prenda carico di questa situazione? Certo, è sempre quello, le previsioni per i lavori della ciclovia dell'Arno vanno oramai ai prossimi 12 mesi, se va bene, per cui quantomeno chiedo che se non si riesce a tenere pulito che si possa mettere un picchetto all'ingresso e uno all'uscita di questa lunga strada per far stare un po' sereni tutti.